Crolla un solaio è successo nella frazione La Piaggia di Sotto nel comune di Subiano, uno dei primi comuni della vallata casentinese. Al momento del crollo all'interno dell'abitazione erano presenti tre persone che sono letteralmente cadute di sotto assieme al solaio. Solo per un miracolo nessuno di loro ha riportato ferite gravi. Sul posto è intervenuto il 118, i vigili del fuoco di Arezzo e i carabinieri, due le persone ricoverate in codice giallo al San Donato di Arezzo, per una terza rimasta praticamente illesa, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Pare che questa per la famiglia coinvolta sia una sorta di casa vacanza. La zona è collinare, si trova poco dopo l'abitato della frazione C di Buffa nel comune di Subiano, un grappolo di case suddivise tra la piaggia di sotto dove è avvenuto il crollo e quella di sopra. molti i cartelli con la scritta vendesi. Le cause del crollo sono ancora da stabilire sul posto per gli accertamenti il funzionario dei vigili del fuoco per stabilire l'agibilità o meno del resto della struttura che sarà decisa nelle prossime ore.